Fuck, 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 oh, oh, ok, 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 è un agguato, un agguato, io me ne scappo via, velocementissimo, è un agguato, sto pure per finire la carne, ok, corro, corro via, uh, un colpo, Fuck, 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 lo scudo, ehm, hot item del secolo, fuck, 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 porca troia, porca troia, porca troia, cosa mi sono dato in mente di fare un hardcore, ok, uh, adrenalinico, no, no, cazzo, Ok, allora Ok, non ho manco la carne, quindi mi devo buttare nell'acqua, ok, ragazzi, molto complicato Zoom, 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 ok, pezzo di merda, mi volevano ammazzare quelli là Ok, fuck, di nuovo Dove devo andare? Ho paura, ho paura Non posso morire È il quinto episodio, tipo Ma facciamo una cosa Ok Ma le serai mie, non trovo la serata di casa, me la creo io la serata di casa